via semiramide arrivati come ci si arriva quindi cosa si attraversa tutto un settore della falesia che non so se è il b o il c regina del lago avanti 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 in ordine ci sono zio genio ernia e poi semiramide allora partner check primo tiro su di qua perfetto dai vediamo com'è sai che poi il primo impatto sembra... si beh chiaro al primo mattino così no? che poi tu hai guardato di cos'era sto tiro? 5 c'è anche un asino dietro che raglia di brutto è una multi pitch sportiva direi per ora si è a destra l'ospitta! ah curca! non l'avevo visto io questo! non ho notato che non l'avevi visto quando uno deve fare per forza Alain Robert. Oggi Alain Robert. Dovete andare scalza però. Eh infatti e dovrei avere dietro un pettinino per pettinarmi i capelli. Ma non ce l'hai scusa. Ma che mosse. Un attimo. Ok. Capire. Dici è più 5 lì che non qua giù. Eh già direi proprio di sì. Decisamente. Eh sì sì. Eccoci. Sosta. Molla pure. Ciao. Ciao. Madonna. Oggi è bellissimo. Non c'è foschia. Stupendo. Il gesto atletico è tutto lì. Sì è tutto lì. Trouble. 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 Wow. Ciao. Ciao. Secondo pitch. 6 barra 6 meno giusto? 6. Poi un bel traverso di non so 5. Poi una placchetta di 6. Vediamo com'è. Disarrampichi un poco. Madonna. Bellissimo eh. Giuro. Cioè. Stupenda sta cosa. Sì. Ok. E là. Oh signore. Lo vedi com'è giù quello? Ok. 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 Ok ok. che botta di vita minchia così ma non capisco qua c'è una sosta eh ma mi sa che la faccio ecco che in procinto di arrivare Alain Robert c'è anche i capelli di Alain Robert perché? beh c'è gli allunghi no? io non potrei essere Alain Robert no però Alain ha anche un pochettino più pelato è anche un pochettino più vecchio insomma c'ha la sua età non vuoi dire che alla sua età sarò pelata come lui no 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 non voglio dire questo nella maniera più assoluta dico che però ce li ha belli lunghi è bello lì mi è rimasto in mano un sasso eh? terzo chiro secondo bis non corrisponde alla nostra relazione cioè c'è una sosta nuova ma ok quindi questo adesso è di quinto sesto dai no dai magari io riesco a toglierla dai tu non preoccuparti qua boh a me pare che qua siamo ce n'è una via e è questa sì perché la sosta era lì nostra qua bisogna fare ancora quella rampetta lì andare su lì boh io andrei su di qua a sto punto forse vedo già la sosta è su in cima eh allora andiamo avanti lì eh posso dire una roba però perché ha messo tutte ste clessidre vabbè schazze guarda io sono qua adesso questo è il tipo di arrampicata che mi sembra ok vai dai chi se ne frega ci facciamo questa adesso che mi sembra eccolo che arriva sulla via ernia alla fine per chi volesse far la semiramide del secondo tiro il traverso finisce dove ci sono i cordini blu esatto e i cordini blu bisogna andare dritti in su solo che c'è una nuova sosta che non c'è almeno non delude la bellezza del tiro no infatti vabbè quello ci sta pitch 3 dell'ernia pitch 4 per noi sostanzialmente infatti è così ottimo capito come si certo ok lo terrò presente per dopo grazie e arrivare a quella spitta qua questa spittatura è tutta spitta è talmente tanto spitta che se ti sbagli strada ti puoi andare su un'altra via ci sono sai i collegamenti da una all'altra vediamo di non sbagliare ulteriormente dai questo va bene questo era come piaccia a me plaisir ok sosta pitch number 4 dell'ernia pitch number 5 per noi questo cos'è 5 più brava guarda che roba è ryan robert lo verrebbe fatto scalza sta roba eh lo so infatti eh cioè sei un po' scarsa eh non farlo scalza anche te hai proprio ragione che cioè io me le toglierei le butterei giù nel lago nel lago addirittura proprio dici si c'è un taglio netto si si un taglio con la modernità via ah però qua c'è una distanza ragazzi eh ah 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 già ah Sosta! Ciao! Ciao! Non male! Direi! Ciao! 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 Eh sì! Not bad! Già! Così, uno scialle! Allora abbiamo fatto un mix tra Semiramide e Via Ernia, praticamente il tiro e tre quarti della Semiramide. Poi appunto c'è una sosta intermedia che nella nostra redazione non c'era, neanche nella Topo. Lì poi bisogna andare avanti per due spit, a sinistra ancora in traverso, e poi andare su dritti. Se si seguono le clessidre blu si arriva nella Via Ernia. Che è quello che abbiamo fatto noi. Esatto, con un passo, boh, non so, lo riprutterei visto il livello della via forse di quinto o più. Sì. Direi. Si arriva nella Via Ernia, che poi da lì invece si va avanti per quinto, poi un tiro di quarto e l'ultimo qua di quinto o più. Bello, tutto sommato! E' un bel panorama. Il panorama è veramente ottimo perché rispetto alle altre vie è molto più sul lago e quindi proprio c'è una vista sul lago molto aperta. E se volete ripeterla come l'abbiamo fatta noi, non ci dite cosa ne pensate. Andate così dai! Top! Ciao ciao! Ora noi continuiamo sul re del lago forse. Vediamo! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!